Prima si disegna e poi dopo si riempie. Adesso vi faccio vedere. Qua partecipano tutti da 6 euro a 100 anni. Non c'è l'opera o c'è il tarazzo? Niente, però oggi. Sono quelle che vengono qui. Quando si è inizia oggi era perché... Oltre a stai iniziala. E' l'opera. E' l'opera. E' l'opera. E' l'opera. E' l'opera. E' l'opera. e un po' di nuovo e un po' di nuovo e 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